lettere dall'eremo le beatitudini nota introduttiva lettere dall'eremo sono vere e proprie lettere spedite mensilmente da questo eremo di camaldoli agli associati di azione cattolica della diocesi di macerata e pubblicate sul loro giornale emmaus nel corrente anno sociale la chiesa locale di macerata ha fatto il suo cammino educativo sulle beatitudini secondo la versione di matteo e ha chiesto al monaco una riflessione mensile su ciascuna beatitudine quindi sono qui raccolte le otto lettere spedite sulle otto beatitudini che aprono il discorso della montagna le beatitudini non sono un codice etico o una visione utopica della vita tra il poetico e il romantico ma sono la proposta concreta di un'esperienza di vita per chi ha scelto di vivere seriamente da figlio di dio educandosi alla solidarietà amorosa e alla condivisione cordiale la vita di fede non comincia da queste parole essa comincia da gesù cristo e continua dal progetto di dio che egli propone non si vivono le beatitudini per essere cristiani ma le si accoglie perché si è cristiani dietro a cristo siamo invitati a scoprire la strada della felicità il segreto della gioia della vita natan andré churachy ha tradotto il termine beati con l'espressione en marche in marcia è un invito alla speranza perché la piena felicità è nel futuro vedendo le folle gesù salì sulla montagna e messosi a sedere gli si avvicinarono i suoi discepoli prendendo allora la parola li ammaestrava dicendo beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli beati gli afflitti perché saranno consolati beati i miti perché erediteranno la terra beati quelli che hanno fame e sete della giustizia perché saranno saziati beati i misericordiosi perché troveranno misericordia beati i puri di cuore perché vedranno dio beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di dio beati i perseguitati per causa della giustizia perché di essi è il regno dei cieli matteo 5 1 10 beati i poveri è la prima beatitudine e lo è di diritto perché per essa si entra nel mondo della fede di essi è il regno dei cieli la traduzione ecumenica della bibbia francese traduce l'espressione di matteo così beati quelli che hanno un'anima da poveri perché di essi è il regno dei cieli chi è il povero il termine greco usato da matteo è ptokos che ha per assonanza il suo corrispondente italiano in pitocco gli antichi testi biblici parlano di poveri del signore ed il termine ebraico descrive l'uomo curvo che dinanzi al potente chiede aiuto e protezione infatti il salmo dice il signore raddrizza i curvati 146 8 quando l'uomo fa l'esperienza della sua radicale indigenza e si sente un curvato dalla vita sapendo che dio si è proposto come protettore di questa categoria di persone solleva gli occhi verso di lui e a lui si affida in questa preghiera il povero sente che l'infinita ricchezza di dio lo investe la presenza di dio avvertita come presenza provvida ed amorosa diviene l'inaspettata ricchezza del povero fino al punto che ogni altro tipo di ricchezza diviene relativo e marginale il cuore dell'uomo che fa l'esperienza di dio riconosce per sé più importante l'unica ricchezza che è dio e il suo regno e per avere questa ricchezza abbandona tutto il resto anzi ogni altra cosa viene attivamente lasciata perché l'uomo possa essere più libero di perseguire l'unico bene ecco abbiamo pronunciato la parola chiave della povertà la libertà del cuore la povertà del cristiano non è un esercizio ascetico di rinuncia ma un cammino spirituale di liberazione un esodo dalla schiavitù delle cose a quella libertà che introduce al possesso di dio unico bene è questa libertà che fa del cristiano il prototipo di una umanità nuova diversa perché animata da una logica diversa la logica della società comune è quella dell'avere del possedere attraverso lo scambio onesto o disonesto oggi più disonesto che onesto per trarre un profitto il più alto possibile ne nasce un uomo chiuso su di sé autocentrato rimbozzolato e violentemente competitivo la geografia dell'attuale società traccia una mappa raccapricciante è dilagata una febbre del denaro che ha infettato tutto come una febbre gialla la libidine dell'oro la sacra fame del possedere hanno dato via libera a tutti gli egoismi in questi anni si è promossa una giustizia sociale con tale insistenza che c'è stata una vera inflazione di legislazione sociale per emarginare l'ingiustizia ebbene dopo tutto questo ci ritroviamo con una società che a chiamarla democratica viene da ridere essa ha promosso una corruzione un sottobosco di ingiustizie da far venire il vomito anche ad uno struzzo dove si è lottato di più per la giustizia e la libertà si sono prodotte le peggiori ingiustizie e schiavitù è avvenuto come per la promozione di un detersivo esso per la mania di un pulito super a lungo andare è divenuto un agente primario di inquinamento la conclusione è ovvia abbiamo sbagliato logica il cristiano deve proporre la vera logica per una effettiva promozione dell'uomo non la logica del possedere ma quella del donare che non si basa sullo scambio ma sulla condivisione e che non persegue un profitto ma una gratuità questa è la vera e unica filosofia della vita la quale deve partire da un cuore libero da ogni possesso la povertà è la promozione di questa libertà del cuore che non si lega né all'oro né al potere né a tutte le altre cose che alimentano un egoismo rapace il quale aveva finito per trovare area di lucro anche nella malattia del fratello la bramosia di possesso è e resterà la grande bestia feroce della storia dell'uomo oggi scrivere queste cose dall'eremo mi dà la sensazione di una voce nel deserto tanto il denaro ha contaminato e corrotto la qualità della vita ma sento pure che il cristiano ha in questa prima beatitudine quella forza misteriosa che può trasformare il deserto in giardino isaia 32 15 per questo mi sento di dire che è giunto il momento per il cristiano di fare scelte più coraggiose e significative su questo fronte per recuperare una libertà dalle cose più radicale e impostare la vita su una essenzialità che proclami veramente che il signore è l'unico mio bene al mio saluto aggiungo quello degli abeti in questo inizio d'inverno già si dondolano sotto le prime raffiche di tempesta mentre l'urlo del vento li attraversa rabbioso ma essi stanno saldi ben radicati alla terra e tesi verso il cielo sembrano proprio una parabola beati gli afflitti in un suo romanzo francoise sagand scrive si nasce gridando e non a caso la vita non è altro che l'attenuazione di questo grido le circostanze della vita smorzano questo grido oppure lo rendono più acuto ma sembra proprio che la vita spesso non sia altro che un grido più o meno attenuato ma la fede nel signore può cambiare la qualità di questo grido in un forno crematorio di auschwitz fu trovata una pagina stracciata e mezzo bruciacchiata della bibbia col salmo 133 che dice ecco quanto è buono e quanto è soave che i fratelli vivano insieme l'ultimo canto alla vita nel momento della esperienza più atroce della morte allora è possibile dire beati gli afflitti perché la scoperta del regno fa nascere questa grande speranza che non vi sarà afflizione che non riceva la sua consolazione chi sono gli afflitti di cui parla gesù le parole del maestro evocano la profezia di isaia il signore mi ha mandato per consolare tutti gli afflitti per allietare gli afflitti di sion isaia 61 1 3 il profeta si riferisce a coloro che erano in lutto per la situazione di gerusalemme essi avevano subito la sua distruzione e ne piangevano la rovina matteo rilegge l'annuncio del profeta in per tutti coloro che aspettano la consolazione di israele allora l'afflizione di cui parla il vangelo è quella esperienza di insufficienza personale di fronte al compito cristiano per la presenza intollerabile del proprio peccato si tratta dell'afflizione di chi nel cammino di fede paga lo scotto di un impegno nel quale sperimenta l'impotenza radicale a fare fronte in questa esperienza anelare alla salvezza e percepire la propria distanza incolmabile è cosa dolorosa che ferisce il cuore ma questa afflizione del cuore che anela a dio è premessa di beatitudine perché introduce alla consolazione di dio il quale non delude mai chi lo cerca e soprattutto chi soffre per questa ricerca infatti chi soffre è quel discepolo del signore che fa propri i problemi del regno assumendoseli con passione e con fedeltà verso il signore egli soffre per il peccato presente nel popolo di dio soffre per le discordie all'interno della chiesa e per le sofferenze che le provengono dall'esterno soffre per tutto ciò che contrasta la fedeltà al proprio signore accettando e vivendo quella vulnerabilità che è una forma di povertà l'afflizione è la sfumatura dolente della povertà non abbiamo molte cose da offrire perché la nostra miseria è radicale ma bisogna assorbire il male con tutti i suoi pesi in un eccesso di fedeltà solo così alla fine saremo riconsegnati all'amore fedele di dio e sperimenteremo la pienezza della consolazione ma questo non vuol dire che in questa beatitudine non possa trovare posto nessun altro tipo di afflizione la parola di gesù si allarga a tutti coloro che subiscono i contraccolpi di un mondo ancora sotto l'influsso del male e della morte la gerusalemme celeste con tutte le sue ripetute distruzioni e con tutti i morti che in essa hanno versato il sangue è simbolo del faticoso e purificatorio cammino dell'uomo verso dio mentre invece la gerusalemme celeste delle ultime pagine della rivelazione apocalisse 21 1 seguenti è simbolo della consolazione che scende da dio perché egli tergerà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più morte né lutto né lamento né affanno perché le cose di prima sono passate ma chi sperimenta la consolazione della fede è chiamato a parteciparla consolando gli altri ma questa è cosa rara la civiltà contemporanea infatti teme gli afflitti e li sfugge perché teme il contagio dell'afflizione e non sa portare il contagio della consolazione anche gesù ha cercato conforto cosa chiedeva gli apostoli nel gezzemani solo che vegliassero con lui non certo che gli facessero un bel discorso confortatorio lo stare accanto senza troppe parole oggi è raro si preferisce fare certi discorsi consolatori che sembrano dare conforto più a chi li fa che a chi li riceve ma in effetti tanti modi di stare insieme nel tram nella fabbrica nello stadio sulla spiaggia anche in chiesa è appena pura vicinanza materiale da cui ispira un senso di sopportazione reciproca che non consola nessuno la parabola del buon samaritano riporta all'immagine più significativa del cristiano perché da essa traspare l'amore di dio che si china sul dolore umano un moribondo delle vie di calcutta disse un giorno a madre teresa prima di ispirare non so se dio esiste ma se esiste deve avere il tuo volto lo spirito di dio che giovanni chiama il consolatore ci sveli il segreto di questa particolare arte del cuore Beati i miti Negli antichi racconti dei monaci del deserto si narra questo aneddoto un giorno tornando a casa dal lavoro un monaco trovò un ladro che stava rubando tutte le sue poche cose il monaco non si scompose anzi gli sorrise silenzioso e lo aiutò a caricare la refurtiva sul suo asino quando l'operazione finì il ladro chiese al monaco chi fosse e questi rispose sono il monaco che abita in questa cella il ladro rimase tanto edificato che restituì tutto aggiungendo tante scuse e ringraziamenti per la lezione Gesù dice beati i miti perché erediteranno la terra matteo 5 5 ed il salmista aveva già detto i miti erediteranno la terra e godranno di una grande pace salmo 37 11 il fedele pio israelita non poteva sognare più di tanto per la sua vita la terra e la pace del cuore costituivano i beni sommi ed ultimi dove trovare il vero riposo i miti allora saranno coloro che entreranno in possesso di quei beni che danno la pace e che fanno gustare l'integrità e la pienezza della vita che cos'è la mitezza essa è il totale abbandono della nostra personalità nelle mani dello spirito perché venga purificata da ogni traccia di arroganza di sdegno di invidia e di ogni emozione che rompe il rapporto di accoglienza verso gli altri ma solo dio può compiere in noi questa purificazione infatti paolo dice che la mitezza è uno dei frutti dello spirito il frutto dello spirito invece è amore gioia pace pazienza benevolenza bontà fedeltà mitezza dominio di sé galati 5 22 e gesù ci si offre come modello di mitezza quando dice imparate da me che sono mite ed umile di cuore matteo 11 29 nel vangelo non ci sono altre virtù per le quali gesù dica imparate da me solo per la mitezza gesù si offre espressamente come modello la mitezza perciò appare come la qualità più caratteristica del maestro e i miti sono quelli che si rifanno più da vicino a lui per la società di oggi segnata fortemente da durezze arroganza e da rivismo l'amitezza passa come un cedimento una dabbenaggine insulsa un segno negativo di chi rimane succube della iniziativa altrui l'attuale cultura ci stravolge il senso dei termini e ci deruba delle ricchezze più alte dello spirito umano infatti i greci dicevano che la mitezza era una proprietà dell'amicizia il mite era colui che aveva uno spirito nobile e rimaneva tranquillo di fronte a qualsiasi provocazione l'amico è un mite come il nemico è un duro la mitezza può sembrare una resa ma è la resa per amore e l'amore non è mai passivo perdente anzi esso è l'unica forza creativa e vincente il mite è pacato e sereno e si impegna per una convivenza pacifica all'uomo mite imitatore di cristo mite è promessa all'eredità della terra il termine eredità allude a dio come padre perché si rifà alla relazione padre figlio il padre celeste trasmetterà gratuitamente al figlio l'eredità del regno all'interno di un rapporto familiare amoroso l'eredità della terra si basa sulla disposizione ferma del padre e garantisce il fondamento e lo spazio della vita i miti possono essere tali cioè possono essere liberi dalle paure dalle emozioni di invidia di avversione perché sono consci e certi che la base della loro vita è incrollabile in quanto fondata sulla decisione del padre costoro dunque possono aspettare pacatamente il giorno in cui entreranno nell'eredità promessa e destinata essi avranno la vita piena la comunione col padre perché sono i figli che hanno seguito il fratello gesù mite ed umile di cuore c'è anche una mitezza con se stessi il peso dei nostri limiti ci toglie la pace raissa maritain dice la mia miseria è con me come una cosa da cui un miracolo ha tolto il peso chiudo con una annotazione del cardinal martini e gli dice che per l'uomo di oggi questa beatitudine contiene tre affermazioni fondamentali prima di tutto la condanna chiara di ogni arroganza e prepotenza in quanto questa non paga mai per cui non cercare mai di avere l'ultima parola nelle discussioni convinti che l'amore è il bene più grande e l'amitezza il suo metodo migliore in secondo luogo c'è il richiamo al coraggio della non violenza in quanto non cedere alla provocazione richiede coraggio l'amitezza è la forza degli uomini saggi quindi non rispondere mai al male col male specie a quei piccoli mali in cui possiamo essere continuamente conniventi tutte le piccole malignità dei nostri discorsi le maliziose allusioni il pettegolezzo facile sul sospetto facile infine vi è l'invito a coltivare lo spirito di dolcezza con tutti come il tratto più squisito dell'amore cristiano e soprattutto mostrare una grande attenzione ai più deboli che sono miti perché non possono difendersi salutandovi di cuore vi spedisco lo sguardo dolcissimo di un capriolo che l'altro giorno mi ha attraversato la strada saltato il greppo mi guardava da dietro un abete con due grandi occhi gloria Grazie a tutti. Grazie a tutti. Forse la spiegazione è quella che Georges Bernanot denunciava già nel 1947 in una conferenza alla Sorbona. La giustizia che non è secondo Cristo, la giustizia senza amore, diventa presto una bestia arrabbiata. Si è sguinzagliata la giustizia senza Dio in un mondo senza Dio, ed essa non si fermerà più se non quando avrà desolato la terra. Per questo suo duro giudizio, Bernanot si meritò l'etichetta di uomo di destra. Oggi, in una società nella quale perfino i cristiani hanno avallato una ingiustizia senza Dio con risultati catastrofici, certe etichette fanno ridere. Che cos'è la giustizia per un cristiano? Nella Bibbia questo termine è riferito sia a Dio che agli uomini. Sintetizzando il pensiero biblico, possiamo dire che c'è un triplice modo di parlare di giustizia. C'è una giustizia di Dio, che è la salvezza finale che Dio offre a tutti. Dio è chiamato giusto quando, nella sua misericordia, è fedele alla sua volontà di salvare gli uomini. Nella nostra preghiera, quando diciamo venga il tuo regno, noi esprimiamo il desiderio che si attui nel mondo questa giustizia salvifica di Dio. Il Dio giusto è il Dio amoroso che salva. E qui già abbiamo qualche nostra concezione personale da rettificare. C'è poi una giustizia dell'uomo. Sono le sue buone opere. L'uomo è chiamato giusto quando agisce secondo le norme stabilite dalla volontà di Dio. Per esempio, Luca chiama Giuseppe, sposo di Maria, uomo giusto. Infine, c'è la giustizia sociale, ed è quella dei rapporti giusti tra uomo ed uomo. Questi tre aspetti della giustizia sono collegati tra loro come in un albero la radice, il fiore e il frutto. La giustizia di Dio è la radice di tutto. La giustizia dell'uomo è il primo sbocciare sulla terra della linfa che proviene dall'unica radice. La giustizia sociale è il frutto ultimo. Come un frutto acerbo o marcio dimostra che qualcosa si è interrotto nel fluire della linfa dalla radice all'estremità del ramo, così una giustizia sociale imperfetta o disattesa dimostra che qualcosa non ha funzionato nel rapporto tra Dio e l'uomo. Se l'uomo non si è lasciato educare da Dio, lo si riscontra nel suo rapportarsi con gli altri. Infatti solo Dio è capace di dare all'uomo quella sapienza della vita che promuove una giustizia totale, cioè una giustizia che sappia armonizzare nel bene tutto intero l'uomo nel rispetto di quella scaletta di valori interni alla persona. Non siamo solo uno stomaco che digerisce, ma anche e molto di più, una mente che pensa, un cuore che ama, un'anima che pulsa e che vive, una persona che si relaziona con dignità e con libertà. La nostra beatitudine a quale giustizia si riferisce? Risponde Matteo 6,33. L'agire dell'uomo è giusto se egli dà la priorità assoluta al mondo di Dio, ma non per una specie di desiderio evasivo dai tormenti della storia, ma per fissarsi di più su quella radice da cui proviene l'unica linfa per la storia. Gesù dice che questo obiettivo va perseguito con tutte le proprie forze. Cosa vuol dire infatti avere fame e avere sete? La fame e la sete esprimono quel desiderio elementare, primordiale, così urgente per l'uomo che da esso dipende la sua stessa sopravvivenza. Chi manca del pane e dell'acqua semplicemente muore. Gesù chiama beati coloro che pongono la giustizia al livello di bisogno primario dell'uomo, coloro per i quali la giustizia sta a cuore come l'urgenza di un bisogno estremo. Coltivare questa fame e sete di Dio, che rende giusti rivelando la sua volontà come linfa di vita perenne, gemendo di desiderio che mai si appaga, come capitava ai santi, costituisce l'inizio della beatitudine. Saranno saziati. È un futuro e non può essere altrimenti. La fame e la sete di Dio non può estinguersi, anzi, cresce sempre di più. Ma tutto ciò non toglie che già l'uomo, fin da ora, abbia un anticipo di beatitudine. Il desiderio di Dio ci fa intravedere una pienezza di vita, che è già per sé stessa un anticipo di sazietà. Chi ha osato veramente lasciarsi scavare a fondo dalla fame e sete di Dio, come fonte di ogni vita e di ogni rapporto tra persone, conosce la sofferenza astruggente di questo anelito folle. E insieme conosce anche la beatitudine indicibile che ad esso si accompagna. Chag verkllo di Dio non ci fa intrava. Beati i misericordiosi. Mi piacerebbe avere l'ispirazione del poeta e le profondità del mistico per parlare come vorrei della misericordia. San Cesario di Arles dice che la misericordia è una parola dolcissima. Infatti in essa è nascosta quella misteriosa alchimia per cui il cuore dell'uomo si riconosce povero e si consegna per amore ai poveri. Il misericordioso è il povero più espropriato da sé. È un povero di cuore che diventa ricco nel momento in cui consegna il cuore ai miseri. Dando si espropria. Espropriandosi si fa povero. Facendosi povero diventa ricco davanti a Dio e davanti ai fratelli. Il significato etimologico del termine esprime tutta un'amirabile suggestione mentre risale alle diverse lingue attraverso cui passa per esprimersi. Il termine latino misericordia dice la consegna del cuore ai miseri e il termine greco variando appena l'accento eleos eleos oscilla tra la pietà e la mensa. Si consegna il cuore come si dà un pane. Infine il termine ebraico rakamim è un plurale che indica le viscere della donna nelle quali è custodito il bimbo concepito. Passando attraverso le tre lingue della Bibbia si conserva sempre l'idea di misericordia come dono completo di sé di fronte alla miseria del fratello. Il cuore, il pane, le viscere sono simboli molto forti che descrivono ciò che di più profondo, di più ricco, di più prezioso c'è nell'uomo cioè l'amore che deve essere centrale e vivo come il cuore, concreto come il pane, viscerale come il sentimento di una gestante. La misericordia è dunque una qualità dell'amore che ha il suo modello più alto nel cuore stesso di Dio. Il profeta Osea fa dire a Dio il mio popolo è duro a convertirsi, il mio cuore si commuove dentro di me, le mie viscere fremono di compassione. Osea 11 7 9. Per questo Gesù esorta siate i misericordiosi come è misericordioso il padre vostro. È una espressione di Luca il quale non fa che ritradurre il detto di Matteo. Siate perfetti come è perfetto il padre vostro celeste. Matteo 5 48. Quasi ad indicare nella misericordia l'ultimo fronte di una perfezione, di un compimento ultimo dell'uomo. Ma quel come ha valore sia di modello alla maniera del padre vostro, sia di fonte da cui attingere, perché siete figli di un Dio misericordioso. Non vi è misericordia nell'agire dell'uomo senza l'alimentazione da questa sorgente inesauribile. Finché il cuore dell'uomo non si pone alla scuola del cuore di Dio in questo modo, le istanze fondamentali del Vangelo gli rimarranno estranei. E credere si ridurrà ad un pensiero alieno dalla propria vita. Può sembrare un paradosso, ma a volte il nemico della misericordia è proprio quel senso di giustizia retributiva che ci arrocca su posizioni rigide per una questione di principio. E così assistiamo all'indurimento del cuore. Monta dentro di noi un sentire duro contro tutti coloro che sono segnati dalla debolezza e dalla precarietà del vivere quotidiano. Si incontrano persone incallite nel bene che hanno sempre un giudizio pronto e definitivo per ogni situazione. Hanno un grande senso della giustizia, ma il loro cuore è rinserrato ed impenetrabile al bene amoroso del Vangelo. Gesù non guarda i miseri a distanza, ma entra con amore nelle loro situazioni e la sua storia dimostra quanto sia stata per lui pericolosa questa disposizione. Lo accuseranno con disprezzo di essere amico dei pubblicani e dei peccatori. Questo atteggiamento di Gesù rivela una qualità essenziale della misericordia. L'occhio del misericordioso ha una speciale capacità di penetrazione per entrare con discrezione e con amore nella vita di chi soffre ed è bisognoso per esprimere una solidarietà affettuosa e consolante. Un occhio aperto ed attento per avere un cuore aperto. Dobbiamo evitare di coltivare una misericordia astratta. Andiamo alle conferenze sul terzo mondo, si applaude commossi alle campagne caritative per un mondo di poveri lontano da noi, ma non sappiamo aprire gli occhi e il cuore alla miseria concreta che è nel luogo in cui viviamo. Finiamo per essere gente dal cuore tenero, ma dallo sguardo corto. I miseri li vediamo a distanza. Forse abbiamo paura di rischiare un capovolgimento che non vogliamo permetterci. Siamo disposti a dare molto, pur di non dover dare quel tutto che vogliamo tenere per noi. Un cuore misericordioso è il miracolo della risurrezione. Esso nasce e fiorisce laddove il divino e l'umano fanno sintesi. Ecco perché solo Gesù risorto può compiere in noi il miracolo di un cuore che muore al proprio io e rinasce alla vita nuova che accoglie tutti con amore perdonante. Tutto quello che la misericordia umana dà durante il pellegrinaggio terreno, la misericordia divina lo restituisce in patria. San Cesario di Arl. Beati i puri di cuore. Il Salmo 51, al versetto 12, ci fa pregare così. Un cuore puro crea in me, o Dio. Quindi il cuore puro è opera di una nuova creazione. Puro di cuore è colui che ha la sua ultima realtà, il suo io intimo, liberamente privo di qualsiasi maschera, di qualsiasi ombra o falsa costruzione, spoglio da qualsiasi velo che voglia nascondere qualcosa, in modo che il suo occhio vero può contemplare la verità di Dio. Maestro Eckhart dice che sul cuore dell'uomo ci sono centinaia di pelli, di pelli durissime, pelli di bufalo, pelli di elefante, pelli di bue, fino alle finissime pelli di cipolla che fanno lacrimare gli occhi. Finché non sei riuscito a strappare tutte queste pelli, tu non potrai vedere Dio. Ma per chi si impegna per un cuore puro, Dio costituisce un'esperienza vitale. Cosa intendiamo col termine cuore? Nella Bibbia il cuore è la sede dei pensieri, della comprensione delle cose, della valutazione dei valori e dei legami emozionali che ne derivano, delle aspirazioni e delle attività, degli atteggiamenti verso gli uomini e del rapporto con Dio. In altre parole, il cuore è il centro della persona, come sede di tutta la sua vita profonda. Il cuore è il luogo di origine, di riferimento e di unità di tutti i rapporti che l'uomo vive con Dio e con la storia. Noi oggi diremmo il cuore è l'intimo dell'uomo, la sua interiorità, la sua coscienza profonda. E questa precisazione già corregge subito un'idea approssimativa che abbiamo della sesta beatitudine. La purezza del cuore è in rapporto diretto con la verità della nostra vita, con l'autenticità e la trasparenza del nostro mondo interiore e non solo, come si pensa, con il mondo delle emozioni. Cosa vuol dire puro? Il termine greco usato da Matteo è katharos, che vuol dire pulito, mondo, ma anche limpido, genuino, non mescolato, sincero, schietto. Matteo parla di spiriti impuri e si riferisce a quegli spiriti del male che sono opposti a Dio, quindi impuro vuol dire che non appartiene alla sfera di Dio. Sempre Matteo ricorda che gli ebrei facevano distinzione tra cibi puri e cibi impuri e che Gesù contestava tutto ciò dicendo non quello che entra nella bocca rende impuro l'uomo, ma quello che esce dal cuore. Dal cuore, infatti, provengono i pensieri malvagi, gli omicidi, i furti. Matteo 15, 17, 20. Quindi è il cuore il principio di tutto. Esso può essere quel fondale marino limpido e trasparente in cui si vede agitarsi la vita o quello stagno torbido che nasconde bisce e rospi. E la purezza del cuore allora riguarda una pulizia interiore che non va solo sulla linea della sensualità, ma che va soprattutto sulla linea della dirittura interiore, della rettitudine d'intenzione. I puri di cuore sono l'esatto contrario degli ipocriti che vengono meno alla integrità della vita, intesa come dedizione completa e sincera alla verità. Per chi ha il cuore puro e si impegna seriamente in questa addirittura interiore, non esistono cose impure per se stesse e si comporta come il maestro. Gesù si dedica tutto e sinceramente a Dio e agli uomini. E poi si pone a tavola con i pubblicani e i peccatori. Uscì di nuovo lungo il mare, tutta la folla veniva a lui ed egli li ammaestrava. Nel passare vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte e gli disse, seguimi. Egli alzatosi, lo seguì. Mentre Gesù stava a mensa in casa di lui, molti pubblicani e peccatori si misero a mensa insieme con Gesù e i suoi discepoli. Erano molti, infatti, quello che lo seguivano. Allora gli iscrivi della setta dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli, come mai egli mangia e beve in compagnia dei pubblicani e dei peccatori? Avendo udito questo, Gesù disse loro, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Non sono venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori. Marco 2, 13, 17. Non caccia via i lebrosi, ma li guarisce. Durante il viaggio verso Gerusalemme, Gesù attraversò la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebrosi, i quali, fermatisi a distanza, alzarono la voce dicendo, Gesù maestro, abbi pietà di noi. Appena li vide, Gesù disse, andate a presentarvi ai sacerdoti. E mentre essi andavano, furono sanati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce e si gettò ai piedi di Gesù per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò, non sono stati guariti tutti e dieci? E gli altri nove dove sono? Non si è trovato che tornasse a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero? Egli disse, alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Luca 17, 11, 19. Ha rapporti con i samaritani e con i pagani. Entrato in Cafarnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava. Signore, il mio servo giace in casa paralizzato e soffre terribilmente. Gesù gli rispose, io verrò e lo curerò. Ma il centurione riprese, signore, io non son degno che tu entri sotto il mio tetto. Di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Perché anch'io, che sono un subalterno, ho soldati sotto di me e dico a uno va ed egli va e a un altro viene ed egli viene e al mio servo fa questo ed egli lo fa. All'udire ciò Gesù ne fu ammirato e disse a quelli che lo seguivano, in verità vi dico, presso nessuno in Israele ho trovato una fede così grande. Ora vi dico che molti verranno dall'oriente e dall'occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, mentre i figli del regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, dove sarà pianto estridore di denti. E Gesù disse al centurione, va e sia fatto secondo la tua fede. In quell'istante il servo guarì. Matteo 8, 5, 13. Si lascia toccare da una prostituta. Tutti questi gesti erano proibiti dal rituale giudaico perché facevano contrarre quella impurità legale che non permetteva atti di culto. I puri di cuore sono coloro che, guardando ogni cosa limpidamente, vedono Dio e che, guardando Dio, vedono tutte le cose. Il loro sguardo è puro perché gratuito. Guardano al di là delle cose e attraverso le cose. È uno sguardo che non si contamina di possesso, ma si alimenta di adorazione. Allora il puro di cuore è un contemplativo, uno che vede Dio già dentro la finitezza delle cose presenti, ancor prima di vederlo a faccia svelata nell'eternità. La purezza del cuore che apre sulla contemplazione è più che il risultato di una scetica severa. L'integrità del corpo e l'onestà dei costumi sono appena una preparazione. Essa è il desiderio di un io ridotto ad una sola brama, quella di conoscere la vita di ogni vita, quella di gustare l'amore di ogni amore. Mostrami il tuo volto, fammi sentire la tua voce, Cantico dei Cantici 2,14. È l'anellito infuocato che si fa insistente preghiera. Con questa beatitudine Gesù ci dice che l'uomo ormai gioca la qualità della sua storia tutta sul cuore, perché dalla qualità del suo cuore dipende l'appartenenza alla storia di Dio o meno. Mentre scrivo queste cose mando un saluto a tutti con la voce di quell'acqua cristallina che in queste settimane di primavera sento scorrere cantichiando tra i piedi degli abeti e degli aceri coperti di muschio, mentre scorrendo ride al sole e luccica di stelle. La trasparenza e la gioia vanno insieme. Beati gli operatori di pace Georges Bernanot narra in Dialoghi delle Carmelitane la visita che il medico fa al convento delle monache per assistere la priora morente. Nella conversazione egli esprime la sua convinzione che il monastero sia una casa di pace. Egli riceve da madre Maria questa risposta. La nostra casa, Signore, non è una casa di pace, è una casa di preghiera. Le persone consacrate a Dio non si raccolgono fra di loro per godere la pace, ma cercano di meritarla per gli altri. Non c'è tempo di godere di quello che si dona. Il termine pace è uno dei più drammatici delle beatitudini. Chi cerca la pace sinceramente e autenticamente sembra che non sia destinato a sperimentarla. Chi la confonde con la quiete la considera un'utopia. Chi non sa coniugarla con la giustizia tenta di renderla schiava dei tanti egoismi del cuore umano. Perfino noi cristiani l'abbiamo rivestita del nostro bisogno di sicurezza esterne. L'abbiamo imprigionata, lei così piccolina e fragile, dentro l'armatura ferrea delle esigenze di un ordine esterno e l'abbiamo mandata allo sbaraglio tra il quietismo rinunciatario e le guerre di religione. Sbattuta e maltrattata ora da un irenismo vago, ora da una militanza piazzaiola. Forse sarà il fatto che la nuova Gerusalemme ha ancora molto, anzi troppo, della sua antica madre, la quale, pur col suo nome di città della pace, ha visto e vissuto di tutto e tutt'altro che la pace. Dal VI secolo a.C. in poi l'hanno avuta i babilonesi, i persiani, i tolomei, i seleucidi, i romani, gli arabi, i cristiani d'Occidente, i sultani d'Egitto, i turchi, fino ad oggi in cui Ismaele ed Isacco ancora si escludono a vicenda. Al presente tutti la vogliono e per questo tutti la dilaniano. L'amore per essa è diventato una gelosia distruttrice. Gesù dice, Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio. Matteo 5, 9. La pace di Gesù descrive sia una vita felice e ben riuscita, sia i rapporti di armonia con Dio e con gli uomini. Chi lavora per la pace, lavora per la vita e cuce rapporti nello sconfinato campo delle relazioni. Egli però non è un semplice tecnico di pubbliche relazioni, ma è un profeta della comunione. Ma la pace è un dono di Dio, il quale inviò nella storia il figlio suo, principe della pace. Egli fece la pace con il sangue della sua croce, lettera ai Colossesi 1, 20, fra tutti gli esseri del creato, in preda ancora alla potenza del divisore. E Cristo consegna questo dono ai suoi discepoli. Pace a voi, vi do la mia pace. Giovanni 14, 27. Cristo è la pace che si dà. Chi accoglie Cristo riceve un modo particolare di essere umano. I cristiani sono per vocazione operatori di pace, perché essere cristiano vuol dire vivere di colui che ha distrutto in sé l'inimicizia. Lettera agli Efesini 2, 16. Il cristiano deve anche capire però che la pace per la quale egli lavora è molto diversa da quella di cui si parla tra gli uomini e che ha solo un senso socio-politico. Gesù dice, non come la dà il mondo, io la do a voi. Giovanni 14, 27. La pace evangelica è molto più esigente di quella socio-politica. Il mondo vuole un sedativo che calmi il dolore senza curare il male. Il mondo cerca una pace che faccia sentire soddisfatti, pieni, gratificati in una situazione di provvisorietà strutturale. Cerca una consolazione che alieni dalla insufficienza radicale del momento. Cristo, invece, non illude nessuno sul presente, ma assicura di non deludere sul futuro. Egli invita ad amare ed operare per ciò che uno poi sarà. La fede del compimento del dopo fa sì che si possa chiamare pace l'insufficienza di prima. La pace del mondo non ha futuro perché non cura l'uomo, ma solo i suoi mali di superficie. Quella di Cristo ha un futuro sicuro che rende vivibile anche il presente. Paolo non poteva chiamare pace ciò che visse in Asia Minore, dove fu anche lapidato, ma la sua vita era per una pace sicura. Allora, anche se tutta la persona e le parti singole sono nel tormento, il cuore vive la pace del Signore. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Salmo 23, 4. Gli operatori di pace saranno chiamati figli di Dio, cioè Dio li riconoscerà apertamente e pubblicamente come Suoi figli. In essi Dio vede prolungarsi nella storia la missione del Figlio Suo unico. Essi sono figli nel Figlio, il quale è la nostra pace. Lettera agli Efesini 2, 14. E continua ad essere la nostra pace negli operatori di pace. Di Gesù Principe della pace, così scriveva Don Primo Mazzolari, non gli hanno fatto posto nell'albergo di Betlemme quella notte e il Natale si è compiuto fuori della città e rimane fuori della città anche dopo duemila anni. Ancora chiede un lascia passare. Il lascia passare è per un bimbo piccolo piccolo, cui nessuno bada e che non cresce. Mentre cresce il bue, cresce l'asino, cresce il cammello, crescono i pastori e i loro bastoni. Con affetto, la pace del Signore sia con voi. Grazie. 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 Beati i perseguitati per la giustizia. In fondo alle beatitudini c'è la persecuzione e la croce. Questo ci stupisce e ci sconcerta. Colui che è fedele alla parola di Cristo, l'uomo che vuole ascendere in quella pienezza di vita e che vuole raggiungere quella dilatazione di animo che è propria dei cristiani, bisogna che affronti inevitabilmente la croce. Dice San Giovanni Crisostomo, senza tentazione non c'è corona, senza lotta non c'è premio, senza sforzo non c'è onore, senza dolore non c'è sollievo, senza inverno non c'è estate. Tempo buono per la semina è il tempo delle piogge. Le beatitudini erano cominciate con l'annuncio ai poveri, terminano con la beatitudine del più povero dei poveri, perché il perseguitato nella sua povertà volontaria non è neanche lasciato in pace, è povero della libertà. Anzi, perseguitato e povero qui sono tutt'uno. Ed infatti ambedue le beatitudini hanno l'identica conclusione, e col verbo al presente e non al futuro, come in tutte le altre. Di essi è il regno dei cieli. Chi vive i paradossi della fede fino ad essere perseguitato è esposto alla morte, e tale esposizione costituisce un motivo di felicità, perché ciò colloca il discepolo già nel possesso del regno. Per capire questa beatitudine bisogna evidentemente rifarsi a Cristo. Essa infatti ha una forte valenza cristologica, perché è legata alle esigenze della sequela. I primi capitoli degli Atti degli Apostoli mostrano l'identità di significato tra perseguitati per la giustizia e perseguitati per Cristo. Quindi i perseguitati per la giustizia sono coloro che vengono rigettati ed esposti alla sofferenza proprio perché nella loro vita seguono l'insegnamento di Cristo, al quale, nonostante tale patire, rimangono fedeli. Questa fedeltà inaugura uno stile di vita, quello della perseveranza nella prova, per una stabilità del cuore sulle due motivazioni di fondo, la causa della giustizia e la persona di Gesù. Sono due motivazioni che non possono essere disgiunte. L'impegno per la giustizia, perché approdia la beatitudine, deve essere dentro un cammino di sequela a Cristo e viceversa l'assimilazione al destino di Gesù deve concretizzarsi nell'adesione piena e concreta alla volontà di Dio, cioè alla giustizia. L'essere cristiano determina una eterogeneità irriducibile con le categorie mondane perché testimonia un mondo divino esigente che chiede l'impegno di una conversione costante. La cupidigia dei beni, la ricerca del piacere e del dominio, che caratterizzano la natura umana decaduta, sono una incoerenza col messaggio evangelico di povertà, di mitezza, di giustizia, di purità di cuore, di pace. Ed è logico che gli capiti di sperimentare dolorosamente le conseguenze della sua estraneità dalla logica del mondo, cioè l'emarginazione, il disprezzo palese o mimetizzato fino all'attentato alla sua vita. L'autore del Libro della Sapienza aveva previsto, forse anche sperimentato, tutto ciò. Egli aveva notato che l'uomo dalla logica mondana non sopporta di essere rimproverato e mascherato nella sua condotta iniqua. Anzi, lo irrita perfino il silenzio dell'uomo onesto e non accetta di avere sott'occhi l'esempio di una vita leale che fa stridente contrasto con l'ipocrisia della propria. Venite, tendiamo insidie al giusto perché ci è di imbarazzo. È diventato per noi una condanna dei nostri sentimenti. Ci è insopportabile solo il vederlo. Sapienza 2, 12, 14. Gesù si è preoccupato di istruire i Suoi discepoli anche su come affrontare la persecuzione. Inviandoli nel mondo come agnelli tra i lupi, dice, siate prudenti come serpenti e semplici come colombe. Matteo 10, 16. C'è il sapore del paradosso in questa indicazione che sembra contenere due atteggiamenti contrastanti. La prudenza del serpente fa pensare all'astuzia di cui la semplicità sembra proprio essere il contrario, ma il pensiero di Gesù è chiaro poiché aggiunge quando vi consegneranno nelle loro mani non preoccupatevi di come e di che cosa dovrete dire perché vi sarà suggerito in quel momento. Matteo 10, 19. Questa è semplicità e libertà di fanciullo che non prepara apologie e non cerca avvocati difensori, solo confida nell'intervento dello spirito ed accoglie gli eventi con la certezza che Dio è vincente, anche se a modo suo, naturalmente. Un'altra misura di prudenza da avere di fronte alla persecuzione sta nelle parole quando vi perseguiteranno in una città voi fuggite in un'altra. Matteo 10, 23. C'è molta umanità e concretezza in queste parole. Gesù non chiede l'eroismo dove non c'è bisogno. Occorre però quella vigile attenzione a conservare intatto il patrimonio della fede per offrirlo a chi si mostra di cuore aperto ed accogliente. Questa specie di fuga non è istigazione alla vigliaccheria ma segno del proprio riconoscersi poveri accettando di esiliarsi pur di rimanere liberi interiormente. Ma vicino a queste indicazioni piene di saggezza umana rimane la testimonianza silenziosa ma avvincente di Gesù che ha sfidato la morte dove le circostanze glielo hanno chiesto. La morte per la fedeltà dell'amore ha il compito di compiere in noi un'apertura impensata verso spazi profondi. Essa compie in noi una specie di dissociazione molecolare ai fini di una trasformazione. Come cava fuori una spiga di frumento da un chicco marcito così essa realizza in noi le condizioni perché si possa essere pronti a ricevere il fuoco divino della trasfigurazione. L'anno scorso avevo nel mio giardino un grande girasole. Ai primi temporali di fine estate ho assistito alla sua battaglia per rimanere in piedi. Quando il cielo era cupo senza sole soffiava il vento il mio girasole piegava la testa la sua grande testa d'oro e si dondolava qua e là muovendo le grandi foglie come palme di mano imploranti ma la sua radice rimaneva ben ferma ed attaccata alla terra. Che mistero questa vita così strapazzata dalle intemperie così offesa dalla storia proprio perché fedele ma che pure affonda le sue radici e si tiene salda alla madre terra. Vi saluto con l'immagine del mio girasole che non smette mai di volgersi verso la luce sfidando i venti di traverso. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.